Poco visitati musei e siti archeologici abruzzesi, secondo i dati del rapporto Istat 2019, la nostra regione non fa meglio del resto del centro Italia. Un'offerta culturale dunque non sfruttata adeguatamente. Michela Barillari. Un'offerta culturale di cui approfittano in pochi. Il rapporto 2019 Istat su musei, aree archeologiche e monumenti in Italia relativo al 2017 evidenzia come l'Abruzzo sia, assieme a Morise e Basilicata, una regione in cui il patrimonio culturale ha attirato non più di 500.000 visitatori. Situazione comune a tutto il centro-sud, precisa Alessandro Crociata, ricercatore del Gran Sasso Science Institute. Da un lato abbiamo una difficoltà nel gestire l'offerta, nell'organizzare l'offerta in maniera adeguata. A frenare i potenziali visitatori, quelli che vengono chiamati costi di attivazione. Questi costi di attivazione sono di una doppia natura, sono non solo di ordine economico, ma anche di ordine psicologico. Ad oggi il consumo culturale è visto come uno sforzo apparentemente difficile da sostenere. Per quanto riguarda il mondo e il Museo Nazionale di Abruzzo all'Aquila, a penalizzare la struttura e anche, ci dicono, la sua attuale collocazione nell'ex mattatoio comunale, che rispetto al castello, la vecchia sede, può ospitare solo il 10% della collezione museale ed è molto meno individuabile. Ciò nonostante fa ben sperare l'aumento di visitatori registrato quest'anno. Per poter pienamente sfruttare il patrimonio culturale regionale, si sottolinea, sarebbe comunque opportuno partire da una sua catalogazione. In una passata stagione l'Abruzzo rilevava, mappava, conosceva. Dovrebbe riniziare, come Dove in questi casi, a conoscere ciò che ha, per poi capire come metterlo a sistema, come valorizzarlo e che politiche attivare per sostenere un percorso di sviluppo culturale.